Ed ora per voi fare impresa Sicilia è venuto a trovarci il consulente Alessio Jovino, c'è dunque per voi la consueta rubrica dedicata alle piccole e medie imprese del nostro territorio. Un bando che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che abbiano intenzione di avviare nuove attività o che abbiano già avviato e quindi abbiano costituito un'impresa da meno di 36 mesi. Il plafondo che è stato messo a disposizione di questo incentivo è pari a 26 milioni di euro e il contributo che verrà concesso può arrivare al massimo a 200 mila euro, contributo chiaramente a fondo perduto. In che percentuale? Le percentuali variano in base alla tipologia di attività. Se si tratta di una società, di una ditta di nuova costituzione, la percentuale del contributo a fondo perduto è pari al 75%. Qualora invece si trattasse di un'impresa che sia stata costituita da meno di 36 mesi, allora il contributo sale fino al 90%. E cosa comprende? Con questo incentivo è possibile realizzare o premurare limitatamente al 30%, acquistare attrezzature, impianti, macchinari, acquistare software o pagare consulenze specialistiche, corsi di formazione per dipendenti o anche fare rientrare le garanzie e fiduzione. I settori che possono partecipare a questo bando sono praticamente tutti ad esclusione della produzione primaria, quindi agricoltura, pesca e anche il turismo ad esclusione della sola attività di alloggio. Tutto il resto potranno partecipare al bando.